Clap, clap, clap. Non mi sembra che l'offerta della Fiorentina, che già era su Gudmusson a gennaio in maniera forte e decisa e che è stata respinta dal giocatore, perché il treno dell'Inter passa spesso una volta sola, soprattutto in questi periodi in cui devi incastrare dieci cose. Caro Albert, questo Albert lo sa, il treno passa una volta, la formula che la Fiorentina offre oggi è la stessa percorribile in teoria anche dall'Inter. Un prestito oneroso con diritto, perché? Perché come abbiamo già detto tante volte e come vi ho detto nessuna squadra, nessun club è pronta a rischiare le chiappe per un giocatore che è stato assolto in un processo non simpaticissimo, in primo grado, ma sapete benissimo che il grado di giudizio non è solo quello iniziale, ma ce ne sono di più. Poi è ovvio che si è assolto in primo grado, di solito è già un gran bel passo avanti, però un po' per questioni legate a questo processo, un po' per la freschella, anche la Fiorentina non è vero. Come sembrava a gennaio, come sembrava a gennaio, perché Prade, quando dice eravamo alle firme, no, però la storia va costruita, perché l'Inter e gli interisti da un lato sono in panico come me, tutti e tutte, perché ci manca l'Inter. Ma fra due settimane siamo allo stadio e fra un mese finisce il mercato, quindi due e quattro settimane si chiude il mercato, in quattro e in due parte il campionato. Siccome vedo che anche le altre, Conte vuole solo Lukaku ed è Sosimen finalmente per loro, sembra andare non all'Arsenal ma al PSG dove ha un accordo storico, poi se qualche squadra inglese vuole pareggiare le offerte del Chelsea, però anche Conte si è rotto le palle, vuole Lukaku, la Roma ha messo in campo subito. I nuovi acquisti, l'Inter ha fatto un mercato bellissimo, stratosferico, fischi a Josep Martinez, fischi nel web, ma l'anno scorso mi ricordo lo stesso trattamento, ho dovuto prendere la spada, sguainarla e difendere Jan Sommer. E ho detto ragazzi Jan Sommer mi dicono in società che è fortissimo ed è stato scudetto meraviglioso e lui ha fatto tantissime pulite merde, tantissimi clean sheet, battuta rubata. Ad Alessandro Catto chiedo scusa ad Alessandro, ma ci scambiamo le battute, ok? Le freddure. Quindi anche, anche Josep Martinez a tanti non piace, ma potrebbe invece diventare molto molto forte. Calma, perché ci siamo scagliati io, l'unico con cui mi sono arrabbiato, non con il calciatore, ma con cui l'ha preso è stato D'Albert, e poi gli altri meno male, o ho fatto di un bocca al lupo o li ho considerati dei grandi acquisti. Calma, non si fischiano i nostri giocatori neanche sul web, calma e gesso. Tom Beller non fesso, diceva il mio Banfi in un film famoso con Paolo Vidaggio, pappa e ciccia, ok? Ora, in questa situazione in cui siamo in panico perché non andiamo allo stadio, perché ci manca l'Inter, e qualcuno è in panico per l'attacco, giustamente, perché per affrontare 18.000 competizioni ci vogliono tanti attaccati, tanti moduli, tanti spunti, stiamo già riparlando di Mkhitaryan punta, andiamo al punto e non alle punte. Goodmusson riportano le conache dei loro. Allora, partiamo, io a gennaio do la notizia. Silenzio. Giornaloi, giornalisti, amici, non amici, non mi interessa. La notizia di Goodmusson è mia a gennaio. Così come la frase, il genna vuole la fresca, e questo qua c'è anche un problema processuale, ok? Questo però è il dominio di tutti. Ho anche detto ieri, guardate che il suo procuratore, a cui non frega niente, mentre la genna interessa nei soldi, l'ha offerto anche in Arabia. Ma ce o ma, minuto 4, vuole l'Inter. Vuole l'Inter. E' l'apostrofo Inter, ok? Vuole noi. E ci aspetta. E qui si ritorna nel tormentone. Qualcuno poi comincia ad attaccare la dirigenza e dice sono bravi a comprare, ma sono scarsi a vendere. Calma, calma. Non è facile piazzare Correa. Ho fatto un finale di stagione l'anno scorso anche lì con Marsiglia, così così. Non è facile piazzare magari Arnautovic. Si poteva lavorare con qualche uscita, ma viva Dio, non ce ne sono state. De Humphries rinnova. Quindi, ve l'ho già spiegato. Io sono deluso sul come l'Inter ha... Franky, su. Scusate. Io sono un po' deluso solamente sul discorso di Valenti Carboni, perché ho visto come la Juve ha venduto su lei e allora non mi capacito di come. Ve l'ho già spiegato ieri. Ora, le frasi sono Gudmusson aspetta Enzaghi, ma non per tutta la vita, virgolettato da un amico e anche un famoso giornalista. Ok? La Fiorentina avanza, ma lui frena perché l'islandese non ha per niente abbandonato l'idea di vestire il nerazzurro. Ma l'Inter è imbottigata nel traffico e con le punte inchiodate ad appiano che ingolfano le trattative o qualsiasi trattativa in entrata. Però, ripeto, vale la pena di aspettare. C'è chi non ha aspettato, pur avendo fatto tutto come Dybala. C'è chi come Buongiorno non ha, non è che non ha aspettato, ha capito che l'Inter non poteva e glielo ha detto. Qui invece l'Inter, attenzione, attenzione alla differenza. Attenzione alla differenza. Questo è un caso molto più simile a Dybala che a quello di Buongiorno. E Buongiorno dice, oh, mi stanno comprando, io però voglio ancora voi, però di là mi piacerebbe andare, hanno i soldi. E l'Inter una sera si ferma tutto, Bepperiz, e poi alla fine, guarda, mi spiace, non possiamo, fratello. E lui va al Napoli. Ma qui, Gudmusson, un po' perché, discorso lo ripeto processuale, un po' perché anche la Fiorentina fa un'offerta che fa un po' cagare, come la nostra. Un po' perché poi dopo l'Inter comunque una punta la deve fare e allora poi veramente magari si va su chiesa. Poi su chiesa si può andare comunque perché è diverso da Gudmusson, si potrebbe comunque fare chiesa a sinistra e fare altre cose che riguardano le fasce, dalle fasce in giù ai braccetti e non da chiesa attaccante, che non è secondo me. Attacca alla profondità la porta, ma non come un attaccante alla Gudmusson, alla Tremio, come gli altri che abbiamo. Quindi per me chiesa è una roba che si fa tra virgolette a centrocampo e sulle fasce. Quindi si potrebbero fare entrambi i colpi. Poi magari hanno fatto chiesa, stanno facendo chiesa o come sempre hanno un piano B. Il piano A è sicuramente Gudmusson. Il piano A era Gudmusson da gennaio, il piano A ve l'ho svelato da sempre. Questa volta l'Inter, a differenza del discorso di Buongiorno che gli dice guarda che noi non riusciamo a prenderti, vai pure a Napoli, ci spiace, anche se ti abbiamo seguito. Qui gli hanno detto Albert fidati che la risolviamo e tu vestirai nera azzurro. Non vi dico quello che penso io, vi dico le fonti che ho sempre avuto e vi dico quello che oggi sono le croniche di loro. Quelli che però dicevano che Gudmusson non sarebbe mai venuto all'Inter, sognatelo, tutte cazzate. E' sempre stato l'obiettivo numero uno di Inzaghi, l'obiettivo numero uno dell'Inter, sbugiardati tutti da Zangrillo. La formula è quella, perché il tipo di giocatore è la notizia che ci aspetta. Calma, ok calma, perché come è saltato Di Bala può saltare anche lui, ne sono saltati un sacco. Però mentre alcuni saltano perché hanno i padri, tipo Samar dice fatti così. Mentre altri come Scamacca saltano perché loro a parità, però l'Atalanta, io ho fatto il titolo là, ok. Mentre altri saltano perché arriva la Juve, li prende Pentea, ok. Qui Gudmusson ha già detto no a Fiorentina a gennaio per noi. L'alternativa è spostarsi da Genova a Firenze, che è un grande passo. Ma l'Inter, ripeto, come hanno anche già detto noti giornalisti, è un treno che spesso, quasi sempre passa una volta. E allora forse vale la pena Albert aspettare, lui l'ha capito. E dall'Inter gli hanno detto aspettaci che ce la facciamo a trovarti un posticino. Questa è la grande novità. Però dovete tener conto di tutto quello che poi vi ho raccontato prima. Cioè il discorso è che Carboni viene venduto o viene prestato o viene formulato per poi essere ripreso in un modo così abbastanza povero. Nel senso una trattativa così la potevo fare anch'io che non so fare 2 più 2 in una trattativa calcistica, ok. Comunque, ripeto, quando poi mancano gli attaccanti si comincia a parlare di Mkhitaryan in attacco. Roba che non funziona, non ha funzionato, poi gioca fuori l'area, ma non gioca dentro l'area. Quindi non lo fa più quello lì. Poi il Mkhitaryan può fare tutto. Comunque, anche avendo poche punte, abbiamo comunque un sacco di incursori. Si può giocare in un altro modo. Non è un problema. Certo è che avere Taremi, a parte che poi l'anno della finale della Champions, sì, abbiamo fatto un campionato pessimo. Perché 12-13 sconfitte era un disastro. Però è mancato molto Lukaku. Ma a un certo punto avevamo Lukaku in forma, Dzeko così così, ma poi è tornato in forma e Lautaro in forma. Avere Lukaku, Dzeko e Lautaro non era male. Qui avremmo Turam, Lautaro e Taremi. E poi arriverebbe una quarta punta, ma con una competizione in più e con un sacco di cose a cui puoi puntare. Veramente, cioè, è anche l'Inter che deve... Poi il discorso, lo ripeto, e chiudo il video così non vi asciugo sempre lo stesso. Cioè, ci fosse una società che capisce quanto è forte il suo calciatore, al di là del suo problema lo prende con una claus e dici, guarda, te lo compro, dai, quant'è? 30, dai, facciamo 28. Gudmusson e dell'Inter. Domani c'è la maglia. Clausula, se dovesse essere processato, te lo ridò e tu mi ridai la fresca. Fine. Ok? Una volta Moratti avrebbe fatto così, come Berlusconi, o come ha fatto De Laurenti, schia ancora un po' di soldi. Siccome non mettono un cazzo di euro, come non li metteva il presidente di prima, siamo messi così. E siccome abbiamo meno giocatori che escono e quelli che escono escono per pochi soldi o vanno in prestito e quelli che abbiamo in rosa addirittura prendono dei... Ragazzi, ma pensate a Correa e Arnauto, gente che prende dall'Inter 3, 4, 3 e mezzo. E perché deve andare via? Ma avete voluto? L'anno scorso mi avete rotto i coglioni per venire, ti diamo questo. Sapevate che avevo quest'età, sapevate che avevo questo infortunio, sapevate che bla bla bla. Ora uno è qua e sai, o gli firmi la recissione e gli dai dei soldi, quello è libero, gli dai 3 milioni. È così. Però ripeto, poi c'è il mercato di gennaio, c'è il mercato di riparazione. Ci sono comunque tante squadre che cercano tante... Comunque l'Inter è un riferimento, se tu prendi un giocatore dell'Inter. Se tu oggi prendi Arnauto, prendi uno che comunque ha vinto uno scudetto, una Champions, è uno che secondo me il mercato può ancora averlo, ma anche lo stesso Correa. Quindi io confido nella società, confido nel fatto che Inzaghi voleva Bento e non gliel'hanno preso, voleva Rodriguez, Ceca, Bale, era d'accordo ma non sono arrivati. Credo che Inzaghi, al di là che è soddisfatto tantissimo il mercato, dica prendetemi almeno quello che vi ho chiesto che è questo. E quindi penso che lo accontenteranno. Però la notizia è che lui ci aspetta. Quindi calma e gesso, è chiaro che le trattive sono fatte così. Oggi è uscito Leoni mai all'Inter, la smentita di questo giovane, eccetera, eccetera. Calma. La mia opinione è che Gudmussen è un'operazione che se non la facciamo sarebbe veramente una beffa, soprattutto se chi la fa, scusate, per chiudere veramente, ma se la Fiorentina la fa con 5 milioni e il diritto, neanche obbligo, il diritto di scatola la possiamo fare anche noi. Chiuso l'incidente Genova-Nizza, anzi, chiuso l'incidente Genova-Inter, va bene? Forza Inter, poi comunque vi aggiorno perché sto, eh sì, adesso manca 27 giorni alla fine del mercato, 28 e domani è il mio compleanno e quindi ho chiesto un regalo da amici molto molto vicini a questa situazione e anche a quel difensore, dove però mi confermono che questo Gaziorovski ha superato in classifica un po' tutti.